Ciao a tutti, sono Andrea Cecchinato, sono un piccolo allevatore di lumache nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo a Cerna e con oggi volevo mostrarvi il mio allevamento e le varie fasi che durante l'anno si mettono in pratica per allevare le lumache. L'allevamento è proprio qui dietro, adesso vi faccio entrare, venite. Eccoci qui, questo qui che vedete dietro di me è il mio allevamento di lumache, è in una vecchia cava di pietra dismessa già una ventina d'anni fa e io l'ho iniziato l'attività circa quattro anni fa impiantando appunto su 3.000 metri quadri questo allevamento e adesso vi faccio vedere un po' più in dettaglio di cosa si compone. Allora, la prima cosa che notate è la recinzione esterna, la recinzione in lamiera zincata ha lo scopo di evitare l'ingresso di animali non voluti dall'esterno. Le lumache sono in grado comunque di uscire, si arrampicano su, scivolano lungo la lamiera e escono comunque. All'interno esiste un'altra recinzione, questa è una recinzione come vedete in rete, una rete speciale fatta apposta per le lumache, è formata a maglie molto fine con una balza e anche questa non evita la fuoriuscita delle lumache, le lumache sono in grado comunque di uscire però fornisce comunque una un deterrente. Altra cosa che potete notare sono le pedane, le pedane sono di legno non trattato, hanno lo scopo di fornire riparo alle lumache durante periodi molto caldi e molto siccitosi. E come potete notare l'allevamento è formato da delle strisce lunghe circa 50 metri e larghe 3 metri e mezzo intervallate da dei camminamenti. Dentro queste strisce ho seminato colza, bietola, insalate, del trifoglio che fondamentalmente saranno l'alimentazione delle lumache. La semina è stata fatta a fine marzo, stanno già germogliando bene le piante per cui speriamo anche che il tempo ci aiuti atmosferico. Questo è uno dei vari corridoi che intervallano le varie recinzioni e fondamentalmente servono per le lavorazioni durante l'arco dell'anno, vi spiegherò magari in dettaglio quando sarà ora. Questo è un come dicevo di 3.000 metri quadri con una capacità produttiva massima intorno alle 2 tonnellate di lumache vive all'anno, cosa che ancora io non ho assolutamente raggiunto. Una cosa essenziale per l'allevamento delle lumache è l'impianto di irrigazione. L'impianto di irrigazione non ha lo scopo di dar da bere alla vegetazione, bensì quella di creare umidità alle lumache, soprattutto nei periodi siccitosi durante l'estate, in modo tale che queste si sveglino, si mettano in moto e quindi mangino e conseguentemente crescano perché in allevamento l'unica forzatura che viene fatta è proprio questo. Normalmente le lumache sono evidentemente animali molto lenti e da un impasto a un altro, a volte può passare anche una settimana e quindi quello che in natura viene fatto circa in un anno e mezzo, cioè quindi dalla nascita della lumaca appena nata alla lumaca matura, normalmente dicevo in natura è di circa un anno e mezzo, in allevamento, viste anche le condizioni atmosferiche invernali e quant'altro, si deve riuscire a portare a termine il ciclo in 4-6 mesi e quindi questa è la forzatura con l'impianto di irrigazione. L'impianto di irrigazione è un impianto come potete vedere, eccolo qua, a nebulizzazione proprio perché appunto dicevo lo scopo è quello di creare umidità alle lumache in modo che si sveglino e non è quello di abbeverare la vegetazione. Ok, vi ho fatto vedere un po' genericamente l'allevamento e ci vedremo magari più avanti quando arriveranno le prime lumachine e ve le deporrò all'interno dell'impianto. In questo momento non ci sono lumache e la pianificazione prevede che circa verso metà di maggio inseriremo le lumachine appena nate. Alla prossima!